Musica Per Guida ai Campionati siamo con Gloria Cazzarone nel dopo partita di Coppa Gloria hai esercito anche tu oggi dopo i guai al ginocchio subito proprio in ritiro Sì, diciamo che non è stato un grande inizio in quanto subito in ritiro ho avuto questo piccolo problema al ginocchio sono stata ferma e purtroppo credo che il ritiro sia la parte fondamentale per la stagione che si va ad affrontare di conseguenza diciamo che ho dovuto faticare più delle altre ma l'importante è esserne uscita La tua collega da Reginato in settimana ha detto serve un Vittorio Veneto con la grinta e la cattiveria della scorsa stagione come si è dimostrato il Vittorio Veneto oggi? Solita la Giulia che parla e poi lascia le domande agli altri comunque diciamo che oggi per quanto mi riguarda non è stato affatto il Vittorio Veneto che abbiamo visto l'anno scorso l'anno scorso avevamo tutte le caratteristiche che oggi non abbiamo fatto vedere mancava secondo me assolutamente un po' più di freddezza davanti alla porta ma non solo a proprio livello di squadra secondo me come è giusto che sia ci sono ancora un po' di cose da sistemare il mister ha fatto delle buone scelte comunque si sta provando la squadra però sì assolutamente la grinta non era quella dell'anno scorso poi tanto merito al Padova ha fatto una grande grande partita molto probabilmente sapeva chi andava a affrontare si è preparato molto bene durante la settimana quindi i complimenti vanno assolutamente a loro Veniamo alla tua prestazione un attimo al 38esimo del primo tempo sull'unico vero pericolo del Padova hai risposto alla grande se non ero pronta subito all'inizio sarebbe stata grave diciamo però sì mi sono andata carica era una partita sapevamo che era una partita difficile e subito dal portiere bisognava far vedere che c'eravamo quindi ho fatto vedere le mie ragazze che potevamo farcela che c'era anch'io e basta comunque sì non è diciamo che non è stata l'unica no difatti nel 35esimo della ripresa hai battezzato fuori quel colpo di testa dall'area piccola sì diciamo che l'occhio c'era un po' la fortuna mi ha aiutato però sì dicevo che appunto torno a fare i meriti al Padova perché molte azioni c'erano e sono state molto brave secondo me grazie Gloria siamo ora con Elena Virgili Elena dopo l'esordio di Coppa affronterete di nuovo sabato il Bari in casa con la prestazione di oggi come pensi sarà il prossimo sabato in campionato oggi è stata una partita molto difficile sapevamo che comunque il Padova veniva qua molto motivato e sicuramente non ci avrebbe regalato nulla è stato così infatti abbiamo trovato il gol a 10 minuti dalla fine e il rigore sbagliato dalla Adri vabbè forse potevamo già andare sull'1-0 però abbiamo fatto una partita secondo me sotto le aspettative potevamo fare molto meglio loro sono state molto più aggressive di noi e sicuramente il risultato non ci fa morale e dobbiamo arrivare sicuramente molto molto più preparate anche con la testa soprattutto al Bari che sarà una partita molto più difficile Vediamo la tua prestazione ordinata, precisa e puntuale negli interventi a dimostrazione magari che giocando nel tuo ruolo sai fare bene Sì, sono contenta di aver giocato la partita da centrale perché comunque anche l'anno scorso ho disputato metà campionato anche come difensore centrale io là dietro mi trovo bene e sì, sono contenta di aver dato il giusto contributo alla squadra e l'importante è anche non aver subito gol oggi Infatti avete, per quanto riguarda il po' in generale sulla partita avete alzato il ritmo verso il diciottesimo del secondo tempo dopo quell'occasione di Simeoni al trentesimo, l'occasionissima di Cisotto che non riesce a battere il portiere in contropiede poi finalmente dopo il rigore di Adriana De Martini è arrivato il gol di Giulia con una zampata dall'area piccola Sì, sì, meno male che è arrivato anche quel gol abbiamo avuto occasioni, sì, anche con la Giorgia però sì, dobbiamo essere più cinici davanti più decisi però speriamo di tenere i gol per sabato prossimo contro il Bari Grazie Elena Siamo ora con il mister del Padova Mafficini, Michele e mister Dopo l'ottimo esordio in campionato oggi la Coppa avete affrontato un vittore veneto di un'altra categoria comunque non siete venuti qui per fare una passeggiata Assolutamente no, siamo venuti per provare a passare il turno solo che la squadra avversaria ha mostrato di valere la Serie A noi ci abbiamo provato in tutti i modi purtroppo è andata male verso la fine però sono orgoglioso della prestazione delle mie ragazze Un Padova che si è difeso attentamente ma mai d'uomo e che è caduto solo all'ottantottesimo della frazione di gioco Sì, infatti abbiamo anche creato abbiamo rischiato addirittura di andare in vantaggio purtroppo non siamo riusciti a concretizzare abbiamo prodotto gioco poi l'espulsione, il rigore parato insomma un finale abbastanza concitato comunque va bene Onore alle mie ragazze sono portate bene Onore a Vittorio Veneto e un bocca al lupo per il proseguo Domenica affronterete nuovamente il Gordice però in campionato potrà essere il trampolino di lancio per l'alta classifica per questo Padova? Azzeriamo tutto tocchiamo le dovute parti da toccare facciamo finta che ogni domenica è una battaglia è quello che dico le ragazze sempre ripartiamo da zero ogni settimana per cui non stiamo a guardare il precedente e quello che è successo si lavora duramente martedì, mercoledì e venerdì e la domenica si affronta in maniera serena ma determinata Grazie mister A voi, grazie Siamo con mister Fattorel Finalmente tra le mura amiche quanto mancava scendere in campo qui? Infatti le ragazze erano un po' tese perché la prima è al Barison che è sempre uno spettacolo giocare al Barison infatti non hanno giocato proprio bene hanno fatto il giro palla come gli avevo chiesto secondo tempo un po' meglio infatti si è visto qualche azione di gioco in più e comunque noi dobbiamo preparare la partita per sabato che per noi è una partita fondamentale non dico fondamentale ma importantissima perché Bari è una squadra alla nostra portata quindi dobbiamo fare punti assolutamente È un intervento che ha alzato il ritmo solo dopo l'occasione di Simeoni verso il ventesimo del secondo tempo Sì, a fine primo tempo gli ho chiesto alle ragazze perché non facevano giro alla palla forse un po' timore di fare questo giro palla il secondo tempo mi hanno ascoltato abbiamo fatto aggirare un po' di più e si è visto che qualcosa abbiamo migliorato questo devono rendersi contro le ragazze che dobbiamo farlo dal primo minuto e soprattutto in casa tenere la palla più possibile noi per far correre gli avversari e speriamo che sabato iniziamo dal primo minuto così come abbiamo fatto il secondo tempo Infatti proprio in vista di sabato cosa manca nei tuoi piani per far sì che questo vittorio concretizzi la mole di gioco che produce? Ma secondo me, a parte che anche oggi ho fatto giocare 3-4 ragazze che non avevano mai giocato quindi non avevano ritmo gara ma è giusto portarle un po' tutte alla pari noi dobbiamo capire che la Serie A dobbiamo assolutamente giocare a calcio e non buttare via la palla e rincorrere sempre quindi l'ho dichiarato sempre se queste ragazze possono giocare a palla quando vogliono farla girare anche perché si divertono di più io l'ho detto come l'ho detto al fine del primo tempo dopo so che è dura con qualche avversario ma se capiscono questo anche per loro sarà una vita più facile E' stato un Padova che comunque si è difeso bene fino al gol? No vabbè, è un onore il Padova che ci ha messo la grinta fino alla fine diciamo, è quello che dovevano fare loro dovevano vincere per passare il turno noi un po' sì, sapevamo che Magari si sono adeguate un attimo visto che il pareggio ci basta quindi possiamo con quello Sì, è difficile sempre mantenere la concentrazione alta alle ragazze perché domenica a Brescia abbiamo fatto secondo me un ottimo primo tempo dopo il secondo tempo il calo fisico e mentale c'è stato ripeto se le ragazze vogliono capire che giocare a calcio col giro palla e tutto quanto se le renderà la vita più facile a loro ecco qua